Due cantieri a poca distanza in questi giorni a Ponte Nossa, che lavori state eseguendo? In particolare sono stati eseguiti dei lavori di manutenzione straordinaria che riguardano il reticolo idrico minore ed in particolare mi riferisco al rissanamento della cosiddetta Valle della Madonna. Nel 2012 infatti durante la stesura del PGT questo tratto di valle e altre due situazioni in paese ci erano state segnalate come critiche. Nel 2013, quindi lo scorso anno, effettuiamo un intervento nella zona alta del paese. Quest'anno interveniamo nella Valle della Madonna e nelle settimane scorse l'intervento si è svolto all'interno del cunicolo che è al di sotto del sagrato della chiesa parrocchiale. L'obiettivo dell'intervento, l'obiettivo principale è stato quello di ripulire il tunnel per garantire il deflusso in maniera corretta delle acque, visto che soprattutto negli ultimi anni i temporali riversano ingenti quantità di acqua in pochi minuti. Parte dell'intervento si è svolto anche all'esterno della valle e ha riguardato i versanti che sono adiacenti all'uscita della valle al di fuori del sagrato della chiesa. L'intervento si concluderà nelle prossime settimane e riguarderà invece la pulizia all'imbocco dello stesso tunnel, soprattutto della vegetazione che in questi anni è cresciuta e impedisce il corretto ingresso delle acque all'interno del tunnel. L'altro intervento riguarda il cimitero, che cosa si sta facendo? Proprio in questi giorni sono iniziati dei lavori, si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria e riguarda l'alla nord del cimitero. Saranno rifatti i muri di contenimento dei lotti dell'alla nord e saranno rifatti anche parte dei viali di ingresso e parte degli intonaci all'esterno del cimitero. Questo intervento anticipa l'intervento invece che sarà effettuato nel mese di aprile e che riguarderà invece lavori di estumulazione e inumazione. Quindi i muri di contenimento avranno la finalità di sistemare poi le parti di cimitero che saranno interessate dall'intervento di aprile. Il costo complessivo degli interventi che sono stati effettuati nella Valle della Madonna che sono in questo momento in corso al cimitero sono per ciascuno di circa 15.000 euro così come è di circa 15.000 euro l'intervento che sarà effettuato ad aprile per i lavori di estumulazione. Approfitto dello spazio per segnalare che il cimitero dalla giornata di ieri è chiuso parzialmente per quanto riguarda l'ala nord mentre il cimitero sarà completamente inaccessibile dal 14 al 17 di aprile per consentire gli interventi di estumulazione.